Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 E come ti senti? Ok... Ehm... I'm so sorry. Io sì, sono fidanzata. Io ti ho fatto la cosa. Ehm... Io non so se ne so. Voi? 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 Sì, sono fidanzata a 11 anni. Mi ho comprato casa, a gennaio ero a convivere. Voi? 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 Sì, non è un po' di me, non è un po' di me, non è un po' di me. L'operatore Giorgio è veramente simpatico, mi ha prestato sempre l'accendino, nonostante io gli avessi chiesto un miliardo di volte. Nonostante, 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 nonostante. Nonostante, nonostante, nonostante. Nonostante, 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 nonostante. Nonostante, nonostante, nonostante. Nonostante, nonostante, nonostante. Mi sento un po' umida. vi ringrazio ancora e ci vediamo più tardi